buon pomeriggio a tutti i ragazzi e sono tornato di nuovo in pista ho la memoria è il mio telefono caro stai bene vero sì il mio telefono questo qui beh non parliamo di questo ma parleremo del 59esimo episodio di angry shark spero di sbloccare il livello 10 perché è da molto che e ancora non avete visto le modifiche ma lo farò sia di quel video e del video precedente che vi farò le finestre e i prossimi video quelli che usciranno ah ho trovato raga ma al mano giro giro io se non faccio i video al giorno e non mi vengo mi passo il tempo così vedrete le finestre degli altri video non capite e poi lo vedrete però buona visione per il video perché ho promesso il mio telefono ce l'ho fatta liberarlo dalla memoria che ne aveva 27 gigabyte ma adesso ne ha 19 quindi il video deve durare pochissimo ragazzi mi dispiace ma ho fatto una promessa e le promesse non si smantengono capito smantengono non mantengono significa che si promettono buona visione eccoci qui raga ma ancora non è pronto ecco sharkzilla perché io lo sto desiderando da tanto a proposito ragazzi buona vigilia di natale un po di volume 98 per cento raga capito cosa ho detto ho faccio la mia promessa al telefono so che da pazzi sta cosa a me è vero quindi lui aveva 27 gigabyte di memoria troppo e massimo e 32 gigabyte di memoria 32 capito sa quanta memoria ho dovuto liberargli e ora sono tornato di nuovo in pista raga non erano file o cose raga era un'applicazione che aveva troppi gigabyte mandengo la promessa che gli ho fatto non deve durare troppo sto video ragazzi dai 98 per cento sono la neve si vede che sta nevicando una bella nevicata fitta che purtroppo ancora qua non è arrivata ma ragazzi dovete credermi fuori c'è un vento di cento chilometri orari forse non si sa se la neve arriverà e poi vi dirò anche che ho un annuncio da farvi raga perché non arriva l'inverno ovviamente lo farò quando tipo la neve non arriverà io devo andare proprio andarci non è vero lo so è fastidioso raga cinquantanovesimo episodio siamo arrivati raga di ingresciare ancora ci sono aggiornamenti di questa applicazione quando è il video quattro minuti certo è da ieri che era l'altro ieri che ho registrato ingresciare livello 10 raga livello 10 raga la promessa dura fino a domani che gli ho detto per oggi niente video lunghi e io glielo promesso siamo arrivati a livello 10 giusto quindi possiamo anche chiudere il video qui mi spiace ragazzi le promesse si mantengono e c'ho anche un titolo originale aspettate che ecco raga pochissimo è durato anche non è stato poco sei minuti ecco raga per lui sharkzilla squalo caju che ancora dobbiamo arrivarci servono altre percentualità il titolo si intitola questo ragazzi ovviamente grazie a una promessa fatta sono riuscito ad arrivare a livello 10 connessi il plenziosauro il plenziosauro va bene come titolo ragazzi aspettate ingrandisco se non mi vedete la mia mossa beh ragazzi spero tanto che questo video di angry shark evolution il 59esimo episodio come titolo come titolo grazie a una promessa sono riuscito ad arrivare a livello 10 connessi il plenziosauro vi sia piaciuto iscrivetevi al canale mettete un bel like mi raccomando seguitemi su instagram ah e non dimenticate di cliccare qui per iscrivervi al canale e qui e qui per non vedervi gli altri video dedicati al vostro caro youtuber b world 23 e ci vediamo al prossimo video bye guys